Lerici, la Spezia, un cittadino americano, che nel 1964, turista alle 5 terre, aveva preso con la Vespa una multa da 1000 lire per divieto di sosta ha pagato, dopo 50 anni, l'infrazione a comune inviando 50 dollari all'ufficio di pulizia municipale. Succede a Lerici, l'americano, residente a Phoenix in Arizona, ha ritrovato il verbale della multa e ha inviato il denaro in contante scrivendo di voler o temperare alla mia dimenticanza, il sindaco Caluri, un gesto ammirevole, sia di esempio.